Uno speciale annullo filatelico, incontri con le scuole, una veleggiata, conferenze, mostre ed anche una dimostrazione di protezione civile. Sono solo alcuni degli appuntamenti previsti nel ricco programma del ventesimo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, che farà di Salerno dal 23 al 29 settembre la capitale dei Marinai d'Italia. La manifestazione, alla quale è prevista la partecipazione di circa 10.000 persone provenienti da tutta Italia, porterà a Salerno anche la nave Scuola Amerigo Vespucci, il concerto della banda della Marina Militare, e si chiuderà con la sfilata di domenica 29 che concluderà il raduno. Sì, i marinari d'Italia che hanno questo privilegio di radunarsi ogni quattro anni hanno scelto Salerno. Non poteva essere diversamente, un porto così bello, una città legata all'economia marittima, ha dato anche tanti marinai, quindi la nostra scelta è stata indovinatissima. Abbiamo trovato un'amministrazione comunale, una regione, tutti a disposizione, tutti veramente grandemente dalla nostra parte, quindi io mi auguro, sono certo a questo punto, che il nostro raduno sarà un grande successo. Chiediamo agli cittadini di Salerno di avere un po' di pazienza, arriveremo in tanti, come sempre, quindi creeremo un po' di problemi, hai già noti i problemi del traffico, però credo che per due o tre giorni si possa sopportare in nome di queste belle cose che noi portiamo. Grazie.